CIRCOLO CULTURALE ANTICONFORMISTA Allora, intanto benvenuti a tutti a questa conferenza stampa, importante conferenza stampa, direi. Allora, questa conferenza stampa dei portavoce è stata convocata dopo la scadenza, avvenuta il 15 settembre di quest'anno, dell'invito formale del Movimento Trieste Libera al governo italiano ad adempiere agli obblighi di diritto internazionale e di diritto italiano verso il territorio libero di Trieste, Free Territory of Trieste, i suoi cittadini, i suoi residenti, le sue imprese e le sue istituzioni. La richiesta era stata presentata il 15 giugno del 2015. Il Movimento Trieste Libera in questi quattro anni ha svolto un intenso lavoro a difesa dei diritti dei cittadini del territorio libero di Trieste e per il ripristino della corretta amministrazione del territorio libero da parte del governo amministratore provvisorio italiano, con importanti azioni a livello giuridico e politico diplomatico. Il Movimento Trieste Libera nel giugno del 2013 ha presentato la prima messa in mora al governo italiano, seguita poi da altri importanti atti a tutela dei cittadini e del Porto Franco internazionale di Trieste, fino ad arrivare all'ultima definitiva richiesta, due anni dopo la messa in mora, al governo italiano per il ripristino immediato entro il 15 settembre del 2015 della legittima e corretta amministrazione del territorio libero di Trieste. Ma anche la nostra ultima richiesta è rimasta senza risposta e questo ha precise conseguenze di diritto internazionale. L'organizzazione che viene presentata oggi è il frutto del lavoro di questi anni del Movimento Trieste Libera e delle inadempienze del governo amministratore provvisorio del territorio libero di Trieste. Il territorio libero di Trieste non può più rimanere senza una propria rappresentanza internazionale di Stato legittima. Do ora la parola ai portavoce dell'organizzazione Paolo Parovel e Silvia Berdoglia. Grazie. Questa conferenza stampa è stata convocata per annunciare l'avvenuta costituzione della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste. Rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste La struttura della rappresentanza è conforme ai principi del diritto internazionale ma è innovativa. Innovativa perché la situazione del territorio libero di Trieste e del suo porto franco internazionale è senza precedenti. Il territorio libero di Trieste è stato costituito e riconosciuto quale Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite garantito dal Consiglio di Sicurezza e dotato di porto franco internazionale dal 15 settembre 1947 in esecuzione della risoluzione numero 16 del 1947 del Consiglio di Sicurezza e del Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 con le sole modifiche territoriali conseguenti alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza numero 753 e 754 del 1992. Il previsto regime di governo provvisorio dell'attuale territorio libero di Trieste è stato affidato prima ad un governo militare anglo-americano e dal 1954 al governo italiano non allo Stato italiano quale amministratore civile. Con questo incarico il governo italiano è succeduto al governo militare alleato anche nella rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste e si è impegnato formalmente ad esercitarla anche nelle organizzazioni internazionali. Il territorio libero di Trieste era infatti già membro per diritto e per trattati stipulati dal governo militare alleato di numerose organizzazioni internazionali oltre che delle Nazioni Unite. Il governo italiano ha invece disattivato la rappresentanza internazionale del territorio libero di Trieste per impedirgli di difendersi nell'organizzazione delle Nazioni Unite e nelle altre organizzazioni internazionali contro le violazioni del mandato amministrativo del Trattato di Pace commesse dallo stesso governo italiano. Le violazioni consistono nel fatto che dal 1964 il governo italiano ha amministrato l'attuale territorio libero di Trieste come se fosse un territorio annesso all'Italia per imporgli le leggi, le tasse e il debito pubblico dello Stato italiano con i quali ha soffocato la democrazia e l'economia del territorio libero di Trieste ed ha paralizzato il sopporto franco internazionale violando anche i diritti degli altri Stati. Ora, per difendere da tali violazioni i diritti del territorio libero di Trieste e i diritti degli altri Stati era necessario individuare lo strumento giuridico provvisorio per riattivare la rappresentanza internazionale di Stato del territorio libero di Trieste abbandonata dal governo italiano sino al momento in cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nominerà esso un nuovo rappresentante. Lo strumento giuridico è la delega specifica diretta dei soggetti titolari dei diritti violati cittadini, residenti, imprese ed organizzazioni del territorio libero di Trieste e anche degli altri Stati, come soggetti di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto internazionale. Questo genere di delega non espone inoltre i deleganti ad alcun rischio, obbligo o spesa. La rappresentanza internazionale è stata costituita in questo modo il 16 settembre 2015 con le prime deleghe sull'atto che viene ora consegnato alla stampa da oggi e pubblicato in rete. Nei giorni seguenti verranno resi noti i nomi dei direttori del segretariato generale e dei dipartimenti della rappresentanza e il documento verrà aperto a tutte le deleghe successive dei cittadini, delle imprese, delle varie organizzazioni che possono aderire. Contemporaneamente verranno formalizzate 236 richieste di accreditamento a Stati ed organizzazioni internazionali, alle quali il Governo italiano non potrà opporsi senza riconoscere di avere violato il mandato internazionale di amministratore civile provvisorio e di il Trattato di pace. Tra le prime deleghe costitutive della rappresentanza internazionale provvisoria vi è la delega del Movimento Trieste Libera a rappresentare le sue iniziative di difesa del territorio libero di Trieste e del suo porto franco internazionale che sono state già sottoscritte da oltre 25.000 cittadini e ad azionarne le richieste e le scadenze che il Governo italiano non ha rispettato, compresa quella del 15 settembre. La rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste è soggetta soltanto all'ordinamento del territorio libero e alla giurisdizione diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed opera con gli strumenti e con i ruoli della rappresentanza diplomatica di Stato nei confronti sia degli interlocutori politici, economici e finanziari internazionali sia degli organi di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste. Siamo quindi lieti di informare la stampa, l'opinione pubblica e gli osservatori politici, economici e finanziari internazionali che dal 16 settembre 2015 il territorio libero di Trieste ha di nuovo una propria rappresentanza internazionale di Stato legittima, indipendente e immediatamente operativa. Di conseguenza il ruolo residuo del governo italiano quale amministratore civile provvisorio del territorio libero di Trieste e del sopporto franco internazionale rimane limitato agli obblighi dell'ordinaria amministrazione nel rispetto del mandato internazionale e sino alla nomina di un nuovo amministratore da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo Stato italiano rimane invece, come la Repubblica di Slovenia, un paese terzo confinante ed obbligato a rispettare i trattati con il quale il territorio libero di Trieste desidera instaurare e mantenere i migliori rapporti di buon vicinato, di cooperazione economica e culturale e di collaborazione internazionale. Passo ora la parola alla portavoce di lingua inglese. This press conference is held to announce the successful establishment of the International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste, IPRFTT. The structure of the representative organisation complies with the principles of international law, but it is also innovative because the situation of the Free Territory of Trieste and of its international free port is unprecedented. Since 15 September 1947, the Free Territory of Trieste is established and recognized as sovereign state member of the United Nations under the aegis of the Security Council and with an international free port in execution of Resolution 16 of 1947 of the Security Council and of the Treaty of Peace signed at Paris on 10 February 1947, with the only exception of the territorial changes consequent Resolutions 753 of 1992 and 754 of 1992 of the the United Nations Security Council. The provided provisional regime of government of the current Free Territory of Trieste was entrusted to an Anglo-American military government, AMG FTT, and since 1954 to the Italian government, not to the Italian state, as a civil administrator. With this role the Italian government succeeded to the AMG FTT and the also in the provisional international representation of the Free Territory of Trieste and it took the responsibility to exercise it also before international organisations. Instead, the provisional Italian government has deactivated the international representation of the Free Territory of Trieste to prevent it from defending itself before the organisations of the United Nations and other international bodies against the violations of the trustship mandate and of the Treaty of Peace committed by the Italian government itself. The violations consist in the fact that since 1964 the Italian government has administered the current Free Territory of Trieste as if it were a province and exited to Italy, forcing the laws, taxes and public debt of the Italian state on it, with which it suffocated democracy and economy in the Free Territory of Trieste and paralysed its international report, violating also the rights of the rights of other states. In order to defend the rights of the Free Territory of Trieste and the rights of the other states from state violations, it was necessary identifying the provisional legal instrument to reactivate the international representation of state of the Free Territory of Trieste, abandoned by the Italian government until the United Nations until the United Nations Security Council appoints a new representative. The legal instrument is the specific direct delegation of the subjects whose rights are violated, citizens, residents, enterprises and organisations of the Free Territory of Trieste and other states as the subjects of private, public and international law. Also, this kind of delegation does not expose the risks of obligations or expenses to the delegating subjects. The international representative was established on 16th September 1915 with the first delegations on the act that is now released to the press and published online. Over the following few days, the names of the directors of the General Secretariat and of the departments of the representatives are revealed and the documents shall be opened for successive delegations. At the same time, 236 requests of accreditation to states and international organisations will be formalised. The Italian government cannot oppose to them without recognising to have violated the international mandate of temporary civil administration and the Treaty of Peace. Among the first founding delegations of the international provisional representative, there is the delegation of the Free Trieste movement in the representation of its initiatives in defence of the free territory of Trieste and of its international free port, which have already been supported by the signatures of more than 25,000 citizens to activate the the requests and deadlines that the Italian government has not respected. The international provisional representative of the Free Territory of Trieste is subject only to the laws of the Free Territory of Trieste and to the direct jurisdiction of the United Nations Security Council. And it acts with the instruments and roles of the state's diplomatic missions towards the political, economic, financial, international actors and with the instruments of the bodies of the provisional administration of the Free Territory of Trieste. We are pleased, therefore, to announce to the press, to public opinion and political, economic, financial, international observers that since 16 September 2015 the Free Territory of Trieste has once again its legitimate, independent international representative of state and that it is already active. Consequently, what remains of the the Italian government as temporary civil administration of the Free Territory of Trieste and of its international free port is now limited to the obligations of ordinary administration in compliance with the mandate until the appointment of a new administrating authority by the United Nations Security Council. At the same time, the Italian State remains a third bordering country like the Republic of the Republic of Slovenia, bounded to respect the treaties, and with which the Free Territory of Trieste wants to establish and maintain the best good neighbourly relations of economic and cultural cooperation and international cooperation. Grazie. 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 Ci sarà ora un brindisi per l'occasione e ricordiamo a tutti che poi sarà possibile passare al nostro circolo dove è offerto anche un rinfresco per tutti i partecipanti a questa conferenza stampa. Gli atti della conferenza stampa possono essere ritirati già qui per tutti coloro che vogliono poter vedere anche quali sono gli strumenti di diritto che il nuovo soggetto giuridico metterà a disposizione di Trieste e dei cittadini del territorio libero di Trieste. Grazie a tutti. Da mezz'ora fa esiste anche il sito internet della presentanza internazionale. Grazie. 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 Grazie.